La Menchiazza si occupa di due macro settori, ovvero l'infiltrazione criminale della mafia nazionale in Maremma e la presenza degli origarchi russi sempre sul territorio maremmano. Si parla di due ambienti diversi ma diciamo legati fra loro perché oltre ovviamente dallo stesso territorio anche un po' per i meccanismi con i quali si sono infiltrati e con i quali si muovono e con i quali sopravvivono nella zona e nell'economia locale. Per quanto riguarda l'infiltrazione mafiosa ovviamente sono andato più a fondo su chi sono, su un po' l'identikit di chi si muove in questo territorio che viene considerato vergine sotto questo aspetto ma in verità come poi mi hanno confermato vari collaboratori di giustizia racconta questa realtà da molto tempo, ovvero dagli anni 60 da quando c'è stata una migrazione dal sud di collaboratori di giustizia che ancora non erano tali, si sono stabiliti in Maremma e hanno creato delle piccole cosche locali con il quale poi piano piano hanno richiamato altri affiliati. Quindi non si parla di una mafia caratteristica di quella che conosciamo, la descrizione è un po' diversa, ovvero si parla di imprenditori, si parla di commercialisti, si parla di persone normali, fra virgolette, mimetizzate nel tessuto locale, quindi si muovono come se fossero, cioè si muovono a loro agio e diciamo fanno da sponda alle direttive che soprattutto vengono da Caserta e da quella zona lì, perché sono quasi tutti i camorristi, quelli che ho trovato io, mentre la mafia con gli anni ha perso un po' di potere. L'andrangheta piano piano sta crescendo, ma si parla soprattutto di spaccio e di traffico di droga, quindi abbiamo una prevalenza di camorra. Per quanto riguarda invece gli oligarchi russi, sono andato un po' sulla parte fiscale di queste figure, sono tutti amici di Putin, quelli che ho toccato io sono i Rothenberg, quindi sono considerati la famiglia più vicina, sono oligarchi perché senza Putin ovviamente non avrebbero fatto quello che fanno, ovvero vincere tutti gli appalti in Russia, l'ultimo quello delle Olimpiadi, avere dei patrimoni incalcolabili proprio perché si basano su fondi offshore, ovvero le inchieste Pandora Papers e Pandora Papers per ultimo ci insegnano questo, che si basano su paradisi fiscali dove il denaro che arriva non è controllabile, non è rintracciabile e quindi di ignota natura. Con questi soldi, questo è provato anche dai documenti che ho trovato, loro hanno finanziato la guerra in Crimea del 2014. Con gli stessi soldi si sono, ecco, piano piano si sono comprati un pezzo della Maremma, senza che nessuno dicesse niente, anche perché è legale, quindi tutto questo era per far luce, la mia inchiesta punta su far luce su questi personaggi perché non tanto per quello che sono in Russia, perché tutti lo sanno e diciamo è abbastanza assodato quello che l'identikit che hanno, ma l'impatto che hanno sull'economia locale. L'idea dell'inchiesta è partita, uno perché mi sento un po' in dovere essendo originario di quelle zone, l'ho fatto per l'appunto un poco dovere e un poco dolore perché mi sono ritrovato dentro a cose che non pensavo ci fossero in un territorio che paradossalmente risulta uno dei più tranquilli, ha vocazione turistica, ha vocazione agricola, quindi non pensavo ci fosse quella matrice così internazionale ma anche nazionale di criminalità. È venuta è venuta da sola, in verità è venuta da sola questa inchiesta perché è tanto che studiavo questi personaggi, è tanto che per l'appunto essendo del luogo mi rapporto con chi si rapporta con loro e questo mi ha spinto a capire, cioè a voler far capire a loro che non si può guardare solo al denaro, che arriva a fiumi perché ovviamente hanno dei capitali che altri imprenditori, cioè altri, i turisti della zona non hanno. Bisogna anche guardare da dove provengono questi soldi per l'appunto da criminali di guerra se proprio vogliamo essere specifici. Sono rimasto invece di stucco scoprendo quanto profonda è l'infiltrazione camorristica in questo caso, ma diciamo della criminalità organizzata nel territorio mare in mano. quindi è stato un dovere e un dolore anche rapportarsi con queste realtà, cercando anche di far capire come impegno civile proprio, di far capire per quanto riguarda gli oligarchi russi la prevenenza di questi soldi e la caratura di questi criminali perché poi quello sono i Rotenberg, sono criminali di guerra, hanno sanzioni da parte dell'Europa e gli altri che hanno legami ovviamente camorristici, quindi sono criminali per lo Stato italiano. Lavorando all'inchiesta sono entrato in contatto con il mio tutor Danilo Procaccianti che più che un tutor si è rivelato un amico perché ovviamente essendo da solo nel progetto mi ha accolto in casa e è stato un insegnante severo ma giusto perché mi ha svezzato per quanto riguarda il passaggio tra scritto e montaggio video, tutta la narrativa, tutti i tempi che ecco mi mancavano quindi è stato molto formativo e non smetterò mai di ringraziarlo. Non mi aspettavo la notizia del premio perché è un territorio abbastanza circoscritto quindi non pensavo avesse un respiro così importante per partecipare al premio, è andato bene, è stata impegnativa essendo da solo ma ho fatto gruppo con Danilo, infatti non smetterò mai di ringraziarlo perché ho trovato un amico più che un tutor e Monica, la sua compagna ovviamente, mi hanno accolto in casa, è stato un confronto molto produttivo perché mi ha svegliato, ovvero mi ha svezzato più che svegliato, che venendo dalla carta, venendo dallo scritto ridimensionarsi per il video, per l'inchiesta video è stata per me la cosa più difficile, infatti il lavoro più duro è stato portare da un'ora e cinquanta di girato a venti minuti con vari screzzi tra me e il montatore, però ecco Danilo è stato un faro, questo lo sottoscrivo perché è stato duro ma giusto, severo ma giusto come si vuol dire.